Procuratore, oggi l'incontro con il neoquestore di Teramo, un curriculum importante alle spalle a cui chiede la collaborazione. Sono lieto della presenza del signore questore di Teramo, che confido naturalmente nelle sue eccezionali capacità professionali e quindi riuscirà sicuramente a dare impulso all'attività della questora di Teramo, continuando il lavoro incomiabile fatto dal suo predecessore. E quindi sono certo che la sinergia tra la magistratura e la questora di Teramo, che già esiste, si continuerà se non si accrescerà ulteriormente. Pochi giorni a Teramo, l'incontro oggi con il procuratore che tiene molto alla collaborazione tra le forze dell'ordine. Assolutamente sì, e io voglio ringraziare proprio pubblicamente il procuratore per questi attestati di stima, ma soprattutto per gli attestati di stima che ha avuto nei confronti della Polizia di Stato e anche del mio predecessore. Sicuramente raccolgo l'invito a una massima collaborazione. Per noi è importante avere questo punto di riferimento stabile nella Procura della Repubblica, che per noi rappresenta un esempio da seguire e da seguire nelle direttive che ci verranno di volta e volta impartite, soprattutto in questo momento in cui i reati sono tanti da reprimere, nella zona costiera soprattutto. e sono anche stimolato dal fatto che il procuratore viene anche da una lunga esperienza di contrasto alla criminalità organizzata e quindi per noi è sicuramente anche un esempio da seguire.